Ah, bambini, bambini, sono qui al museo, guardate, mi hanno dato tante cose, ma mi dovete aiutare perché non so come fare per completare queste opere, guardate, con il Leonardo a un fumento, sapete che cos'è un fumento, fumento viene del fumo, humo, ven che è come un pinito blanco che sale, bene, questo è dove poniamo le parole che dicono le persone, di una storia, per esempio, io aca potrei dire ciao, bambini, però non so io il fumo. Qua l'argomento è Leonardo da Vinci, devo scoprire tra queste cose qual è la parola di ogni Leonardo, per esempio, mi hanno dato, guardate tutte le cose che mi hanno dato. Cuoco, 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 qual è il Leonardo cuoco? Buo, architetto, scrittore, ingegnere, scultore, non so cosa fare, ti potete aiutare? Vi prego, dopo, io l'aiuto.